E' stato dissequestrato il Residence Le Piramidi in Via Neri a Campobasso nel quale alcune escort avevano stabilito la propria residenza. Lo ha deciso la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso, Veronica Dagnone accogliendo l'istanza degli avvocati Arturo Messere, Massimiliano di Grezia e Paolo Lanese che difendono i titolari. La GIP ha condiviso la tesi secondo cui sono venute meno le esigenze cautelari sottese al provvedimento impositivo del vincolo e ha restituito l'intero immobile agli aventi diritto. L'avvocato Messere è dell'opinione che non sussistono affatto i reati ipotizzati dall'ufficio del pubblico ministero a carico degli indagati come si riserva ha detto di dimostrare al momento opportuno e nelle sedi competenti. Qualche settimana fa il Residence era stato sequestrato e i residenti obbligati a sgomberare da tempo stando alla ricostruzione dei carabinieri. Alcune escort utilizzavano gli appartamenti per ricevere clienti. Uno di loro, dopo essere stato malmenato e minacciato da una ragazza, aveva denunciato l'accaduto ai carabinieri.